Due le liste contendenti per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara composto da 15 membri, in lizza anche 4 singoli candidati per un totale di 29 espiranti che otterrà la maggioranza e indicherà anche il nuovo Presidente. Da una parte la lista sulla strada giusta che indica come è candidato Presidente Giovanni Vanni di Bartolomeo nella lista 15 avvocati di cui solo 4 consiglieri uscenti. E cercheremo di migliorare nei settori dell'informatica e quindi cercando di potenziare il sito web applicazioni che gli avvocati potranno utilizzare, di migliorare la informazione per quanto riguarda la previdenza l'aspetto previdenziale che oggi più di ieri interessa quasi tutti gli iscritti, il rapporto con la Cassa Forense. Per il resto il rapporto con il Tribunale è sempre stato un buon rapporto, c'è collaborazione con i magistrati, con il personale di cancelleria, cercheremo però di migliorare anche lì. Avvocati Futuro è il nome dell'altra lista composta da 10 avvocati. Qui in caso di vittoria sarà indicata Maria Crocio come Presidente e sarebbe la prima volta che una donna andrebbe a ricoprire questo prestigioso incarico. Sarà comunque una grandissima novità e seguirebbe anche un trend che ormai ha preso piede nella nostra regione in cui nella Corte d'Appello Presidente la dottoressa Franca Bandera, nel Tribunale Penale Presidente la dottoressa Di Fine e quindi anche nel Consiglio dell'Ordine la figura di un presidente donna costituirebbe una novità in linea con quelli che sono i cambiamenti del momento. Puntiamo anche su una formazione nuova e abbiamo in mente anche un progetto che riguarda un team per raccogliere e favorire i colleghi nella richiesta di incentivi comunitari e di fondi destinati anche all'avvocatura perché la promozione del nostro lavoro è l'obiettivo primario che deve perseguire il Consiglio dell'Ordine. Ci sono poi quattro avvocati che corrono da soli, Luca Pellegrini, Fabrizio Di Luigi, Paolo Mancini e Pietro Cesaroni. Le elezioni domani e dopodomani presso l'Aula Emilio Alessandrini e il Tribunale di Pescara dalle 9 alle 14. Ogni elettore potrà esprimere 10 preferenze e gli eletti saranno in carica fino al 2022.